Ciao a tutti ragazzi sono Kendall e benvenuti in questo nuovissimo video di Minecraft Probabilmente vi starete chiedendo Kendall ma dove ti trovi questa volta? Mi trovo in una nuova mappa bellissima La mappa dei mille minigiochi arcobalenosi Avete mai giocato a una mappa del genere? Non credo perché è appena uscita quindi la sto giocando soltanto io Livello numero 1 Il labirinto Vediamo di cosa si tratta e mi raccomando lasciate tanti bei mi piace Allora il labirinto non mi sembra molto arcobalenoso questo labirinto Anzi è piuttosto colore un pochettino terracotta Terracotta bianca È un rosino pelle ecco Allora il labirinto per finirlo basta andare sempre a sinistra fino a quando non ti blocchi Quindi se ti blocchi torna indietro e poi rifai sempre a sinistra No non mi dire che è una mappa troll Per favore non mi dire che è un troll Non è un troll vero? No 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 non è un troll stiamo finendo Stiamo finendo ne sono sicuro sono sicuro al 100% che siamo verso la fine giusto? Eccolo oh mio dio ce l'ho fatta veramente Beh del resto quando conosci i segreti dei labirinti non è molto difficile Livello numero 2 Parkour Ok livello numero 2 Parkour 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 Fino ad ora sembra piuttosto semplice Questo che cos'è? Uh Ok Per fortuna che ho i riflessi di un gatto Sono un felino ragazzi Non sono mica Ecco appunto Beh in realtà sono veramente un felino Cioè la mia skin è una tigre blu Allora Kendall che ne dici di farlo per bene il parkour senza fare lo sbruffone eh? Che poi nei commenti tutti ti dicono Kendall la smetti di fare lo sbruffone? Eh E me li merito poi i commenti Quando faccio lo sbruffone? Ah sono un cretino devo andare sulla scala Oggi ho preso fin troppi caffè quindi sono super super concentrato Ce la posso fare Vai Candy Wendy Badabum E badabam E bidibim bam 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 E poi questo Ormai io mi sono allenato e ne ho fatto un milione di Ma tanto voi ridete quando faccio i fail nel parkour Quindi più ne faccio meglio è per il video giusto? Sì Li sto facendo apposta Come no? Tutti apposta li sto facendo questi fail Ok Adesso devo andare Sullo slimino Badabim bam 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 Jump Oh mio dio Wow Figata Livello numero 2 completato Livello numero 3 Il quiz Chi è il creatore della mappa? Svenek 05 Sveni 05 O Svenek 50 Se non sbaglio è questo Pam Corretto Quanti name tag puoi tenere contemporaneamente? 1 16 O 64 Penso 16 No non era corretto 64 allora Oddio 64 Wow Come puoi fare il segnale del campfire più lungo? Con una zucca Con una balla di fieno O con del pollo crudo? Eh Penso con la balla di fieno Bella faccia me l'ha detto una volta Sì 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 Per fortuna che me lo ricordavo Quanti logs ti servono per fare 10 scale? Eh 2 No 3 No Ecco le sbagliate tutte 4 Beh se non è 2 Se non è 3 4 no Quanti blocchi di terracotta esistono? Su Minecraft Penso Allora Non penso sia 17 Credo 18 17 Ah Era 17 Il bello è che ho iniziato dicendo Non penso sia 17 No infatti Era proprio 17 Ok 1 2 3 Fatto Livello 4 Trova il pulsante Questi sono tosti ragazzi Questi livelli Secondo me Il pulsante È nascosto Veramente molto bene Io do un'occhiata ovunque Anche all'inventario Perché questi Trollano sempre Quando fanno queste mappe E lo nascondono Nel posto più ovvio possibile Che però tu non riesci mai A vederlo Oh Non ci credo È qua Oh mio dio Ok Il primo livello L'ho superato Vi giuro ragazzi Che non ho mai giocato questa mappa L'ho fatto tutto quanto Con l'intuito Ok Qua Ma seriamente Ma no Ma è fin troppo facile Oh è fin troppo facile Io sono un pro Probabilmente io sono un pro Ok Questo credo sia più difficile Perché siamo già a livello 3 Vuoi vedere che devo fare una specie di parkour Oh mi sa che è nascosto tipo tra la neve Oppure visto che siamo nell'1.14 Fosse Mi devo tipo abbassare tra i blocchi Questo tappeto è molto ambiguo qua in effetti E c'è il blocco di paglia Aia Aia Ok Ricordate quando ho detto che era fin troppo facile Bene Me ne sono pentito Tra questi blocchi L'albero secondo me ragazzi È per buttarmi fuori strada Sì 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 Non c'entra assolutamente nulla Il pulsante deve essere qua dentro O forse nell'inventario No Come diavolo faccio a trovarlo Non è che questo apre tipo un passaggio Allora L'unica opzione secondo me È cercare di fare parkour Sulla casa Eh non sarà facile Secondo me è un salto impossibile questo Sì Impossibile Oh l'ho trovato Dai era più semplice di quel che io pensassi Oh mio dio Ok siamo arrivati al livello numero 5 Dropper Io sono un campione del dropper E adesso guardate come sbaglierò Ecco infatti Un tempo ragazzi io ero veramente bravo a fare il dropper Ecco qua Tutto qua Oh facilissimo Livello numero 6 Zombie fight Oh no devo combattere gli zombie Eh mi dai un'armatura però Ah cibo Poi Aspetta 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 Prima ho bisogno dell'armatura Spada Niente armatura Ok Dove sono questi zombie Oh Oh ma quanti siete Ma sei scemo Ma sono tantissimi Come faccio a ucciderli adesso No dai Ma sono tanti E sono pure forti Oh cavolo Ma no no Non posso morire contro degli zombie Sarebbe imbarazzantissimo Io sono un imperatore Andate all'inferno Ok Oh Fin troppo facile No non è vero In realtà ho rischiato la vita un bel po' di volte Fammi dell'altro cibo per favore Certo che mi potevi dare del cibo migliore Eh le mele Ok sono pronto Via Quanti saranno Oh cavolo Eh gli scheletri Ma avevamo detto zombie Scusami Eh signore No Quasi come li ammazzo Dai non li posso uccidere Non ce la farò mai O forse si Beh se si ammazzano tra di loro Gli stupidi Sicuramente Ce la posso fare No 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 Ecco appunto Ah vabbè Ma ricomincio da qua Pensavo di doverlo fare da capo E allora sarà una pazziata al loop park Ok Sono di nuovo gli zombie Questa volta andrò la spada e l'armatura Sono equipaggiati molto Molto Meglio Andatene Ah andate a farvi il bagnetto che c'è caldo Ce la faccio Ci sto riuscendo ragazzi Senza morire Non sono morto neanche una volta E sbam Completato Livello numero 7 Tiro con l'arco Uh Allora dammi l'arco Dammi le frecce Ah devo prendere il Devo prendere il pulsante Semplice Uh ok Aspetta Ah ce ne stanno altri Non ce n'è uno solo Ok E poi ok Uh questo minigioco mi piace più degli altri ragazzi Questo è fighissimo È nuovo È originale Non l'ho mai visto fare a nessuno Aia questo qua sarà complicato da prendere Come faccio a prenderlo adesso? Ma non riesco neanche a vederlo Uh è là vedete? Questo sarà difficile Devo spammare un bel po' di frecce E mi di altre frecce per favore Grazie Oh l'ho preso Sono non sono un campione Restano gli ultimi tre livelli Elytra flight Ecco Perfetto Devo volare con l'elytra Questo non riuscirò mai a completarlo Ne sono sicuro Eh sembra piuttosto semplice Forse ce la posso Ecco Iniziamo bene No 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 Se vi siete iscritti da poco al mio canale Dovete sapere che io sono la persona più negata di minecraft A utilizzare l'elytra Cioè è proprio Sì Non ci riesco È più forte di me No 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 Ok forse ce la faccio Forse ce la faccio lo stesso Ho barato Ho saltato un cerchietto Ma non importa L'importante è che sono riuscito a finirlo Oh mio dio ce l'ho fatta Livello numero 9 Il puzzle Oh cavolo Ah qua mi dà la soluzione Se non dovessi trovarla Però io non voglio barare Voglio trovarla io la soluzione Oh Sono bloccato Mi ha dato una leva però E ora? Eh no aspetta Aiuto Come faccio uscire Mi sono bloccato Cavolo Mi sa che non mi dovevo bloccare Sono dovuto uscire con la game mode purtroppo Ok quindi c'ho una leva adesso Questo qua presumo che Ah ogni volta che lo apro mi dà una leva Quindi non mi ci devo bloccare dentro Perfetto Buono a sapersi La leva la posso piazzare da qualche parte? Non sto capendo ragazzi Non sto Forse la leva la devo mettere qua Allora Lì vedo una combinazione Non ho l'optifine C'è scritto tipo 27 più 7 più 100 Non lo so Non riesco a vederci bene Ma 1, 2, 3, 4, 5, 6 Non riesco a capire cosa devo fare ragazzi Forse mi devo mettere in survival Rompere questi blocchi E metterli nella cesta Non lo so Ci provo però eh Ho perso l'arancione Quello è l'ultimo dei problemi Il problema qua è che non capisco cosa Non capisco cosa devo fare Forse mi devo veramente baggare qua Evidentemente sono troppo stupido E non riesco a completare questo Indovinello Ok questo non doveva succedere Mi sa Lo so ragazzi Non lo sto facendo bene Sto sbagliando tutto quanto sicuramente 2 per 7 più 10 diviso 8 5 meno 1,05 Eh? Eh... Ok Che mi serve tutta sta roba? Il risultato I numeri dei colori Io adesso non mi ricordo Quali sono i colori Perché li ho tolti da bravo genio Quali sono? Oh mio dio Ho baggato questo livello Completamente Che cosa ho fatto ragazzi? Ho fatto una cretinata Ecco cosa succede Quando sei stupido Ecco cosa succede? Ho baggato tutto Incorretto 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 Non mi ricordo L'ordine dei colori Non posso sapere qual è Incorretto Incorretto Cioè sarà uno corretto no? Incorretto Incorretto Oh Che succede? Vabbè Ok Eh sì Il livello L'abbiamo finito In realtà L'abbiamo baggato Al 100% Uh livello numero 10 Rainbow Speedrun Wow Che figata Adoro questi livelli 3, 2, 1 Via Questo dovrebbe essere Piuttosto facile A meno che sia super lungo Se l'hanno fatto super lungo Probabilmente sbaglieremo Tra non molto Guardate che figata E o non è super soddisfacente E ora salta all'ultimo Ho come l'impressione Che quel salto sarà piuttosto difficile da fare Alla mia destra potete ammirare la mappa Eh sono anche caduto Bravo Per fare lo scemo Io poi muoio Devo soltanto riuscire a fare questo salto Oh Nessun salto è impossibile per Candy Wendy Oh Ok Io mi sono allenato Ne ho fatti a migliaia di queste mappe Questo di certo non mi potrà fermare Credo di essere appena arrivato alla fine Bam No Non sono arrivato alla fine Oh adesso sono arrivato alla fine E sono caduto Che belli i livelli arcobaleno Ragazzi sono bellissimi E via No ma in mezzo Uno ce n'era di buco Uno È facile Sembra facile Vi assicuro che sembra più facile di qualche Ok Ecco Bam Mappa completata Mi merito un premio Cosa mi merito? Beh Potrei meritare 100.000 diamanti? Ma va bene Mi accontento anche soltanto di 5.000 mi piace Mi raccomando ragazzi Lasciate tanti bei mi piace Se vi è piaciuto questo video Dal vostro Kendall è tutto E noi ci vediamo domani Con un prossimo video Ciao